Il nuovo Tosaerba Power Plus Ego Cordless è arrivato. Dai un addio alla benzina. Prodotto dagli specialisti delle cordless, offre la stessa potenza senza il rumore, l'odore e i fumi della benzina. Alimentato da esclusiva batteria Atleti, una 56 volt di Ego, progettata per erogare una potenza di lunga durata e prestazioni senza precedenti, offre la più alta capacità energetica del settore in un'unità propria. È facile da immagazzinare grazie al design impiegabile. Regola il manico, inserisce la chiave di sicurezza e premi il tussante per avviare. Il motore per la trazione ti offre un controllo totale, mentre la grande capacità di taglio ti consente di usare qualsiasi prato in pochi passaggi. Grazie alla funzionalità 3-inimo, potrai raccogliere l'erba direttamente nel sacco, scaricarla lateralmente o facciamarla, mentre i grandi sacchi di raccolta dovranno essere sviluppati con meno frequenza. Inoltre, con la batteria Atleti, un Diego in grado di erogare un'incredibile potenza, non riuscirai a credere quanto potrai tosare con una sola carica. E i fari a LED ti consentono di lavorare a più lungo. Con il rivoluzionario sistema Core della Seiko, dovrai solo inserire la batteria per cominciare a lavorare. La potente batteria Art Litium da 56 Volt è compatibile con tutti i prodotti della gamma E. Quindi, indipendentemente dal tipo di lavoro e la complessità dell'operazione, il Tosaerba Ego Power Plus ha tutta la potenza di cui hai bisogno. Scegli fra quattro modelli e scopri la potenza alimentata batteria degli specialisti delle cordless. Ego Power Beyond Belief